Sei pronto a rimanere incollato alla poltrona con le nuove puntate di Un Posto al Sole? Gli ultimi avvenimenti sono un turbine di emozioni, con un twist di suspense che nessuno si aspettava. Andiamo a vedere cosa sta succedendo nel dettaglio. Recentemente, sono successe cose da matti a Un Posto al Sole e sembra che la tensione non voglia proprio calare. C'è stato un incidente totalmente fuori dagli schemi e adesso Alberto Palladini si ritrova nelle acque del guaio per aver fatto una scelta poco oculata. Sorto un battibecco con Eduardo Sabbiese, tutto questo casino ha attirato le orecchie di Angelo Torrente, quel boss che non vorresti mai avere alle costole. Torrente è uno di quei tipi che se si sentono traditi, non la prendono bene, e ora per Palladini, che pure lavora nello stesso studio legale del rispettato Nico Poggi, le cose si mettono davvero male. La faccenda si ingarbuglia ancora di più perché Alberto, che si vede incastrato tra la paura e il bisogno di schiarirsi le idee, decide di dare una mano alle autorità. Se questa voce trovasse conferma, le conseguenze potrebbero essere grosse per un bel po' di gente, incluso Damiano Renda. Questo poliziotto, dopo un confronto acceso con una certa rosa, si è messo in testa di scavare a fondo nelle vicende. La sua ricerca di giustizia lo sta portando dritto dritto a misurarsi con i rischi del combattere la criminalità. Le dinamiche di un posto al sole, tra paura e determinazione, a quanto pare, le ultime notizie ci dicono che Damiano Renda si mette in gioco sempre più sul serio per quanto riguarda le indagini. Però resta la domanda. Eugenio Nicotera e Lucia Cimmino lo lasceranno fare tutto quello che vuole? Le cose tra i personaggi si stanno surriscaldando e pare proprio che nessuno sappia cosa aspettarsi. In questa situazione, c'è Viola che è una ragazzina piuttosto apprensiva quando si tratta del suo Damiano. La sua preoccupazione è palpabile e ci fa vedere quanto anche l'amore e i sentimenti facciano parte integrante di questa storia. Che piega prenderanno le decisioni dei nostri protagonisti? L'attesa è tanta e gli occhi sono tutti puntati su come si svolgeranno questi eventi. Un posto al sole Tra emozioni forti e scelte difficili, la storia di un posto al sole continua a ingranare e a trascinare gli spettatori in un mix di tensione ed emozioni. I rapporti tra i personaggi si complicano di puntata in puntata, e la minima mossa può scatenare eventi a catena del tutto imprevisti. Chi segue la serie non può fare a meno di aspettare con ansia di vedere come si dipaneranno queste trame e che sorprese riserveranno le prossime puntate. La situazione è tale che tutti quanti ci stiamo domandando su cosa accadrà dopo e le azioni dei personaggi ci pongono di fronte a dilemmi etici e morali non da poco. Queste vicende ci fanno riflettere onestamente sulle reazioni umane e sulle scelte fatte nei momenti di crisi. E voi cosa pensate? Avete idee su cosa capiterà da qui a poco? Vi sentite più in sintonia con Damiano o con Viola? La giustizia è verità in azione, affermava Benjamin Disraeli, e nel cuore pulsante delle vicende di un posto al sole, questa massima sembra trovare un nuovo, vibrante significato. L'ingenuità di Alberto Palladini, si trasforma in una pericolosa spirale di eventi che mette a dura prova la coesione e la sicurezza dei personaggi che abbiamo imparato ad amare. In questo intricato gioco di cause ed effetti, la figura di Damiano Renda emerge come simbolo di una giustizia giovane e ardente, pronta a sfidare i giganti per far trionfare la verità. La sua determinazione, unita alla preoccupazione palpabile di Viola, ci ricorda che dietro ogni azione legale si nascondono cuori che battono, paure che attanagliano e speranze che ardentemente cercano di farsi strada. Un posto al sole non ci offre solo intrattenimento, ma anche una riflessione profonda sull'importanza di agire sempre in nome della giustizia, nonostante i rischi e le incertezze. La trama si infittisce, e noi spettatori restiamo incollati allo schermo, consapevoli che ogni episodio ci avvicina un po' di più alla risoluzione di un mistero che è molto più di una semplice narrazione televisiva, è un inno alla resilienza dell'essere umano di fronte alle avversità della vita. Grazie Grazie Grazie